Il Padre mi ha dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che io vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo. Andate dunque, ammaestrate tutte le genti, grande e mini, ammaestrate tutte le genti, e già pura sordine, e già pura sordine, e già pura sordine, e già pura sordine, Grazie a tutti 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 Grazie a tutti